e ancora regà ci ho provato e ho messo la live si è meglio provarla da subito così se non va a chi manda la divina chi è stato a sentire quell'essere? io no no l'entrino sono come ero avanti coi aglione sono avanti che mette qua la canzone dell'aria ecco la gara girano se è in culo esatto un vecchio polpone per cappella praticamente in giro la voglia oh chi è che sta a fa? staglia col microfono troppa cacara eh ho capito che è colpa mia colpa tua per una volta non so io non so che robbie staglia col microfono ciao ciao che cos'è? che cos'è? ci staglia col microfono oh no non si può no sei sicuro? è un po' i agli avano abbruttati quello con i messaggi non c'è sta più amore ma che sta problemi quindi è lì lì il karma sta facendo effetto no no eh che karma che karma che karma che karma sta facendo effetto tu è il karma di Yahyo che dice ai ragazzi che stai karma che dice alla ragazza che stai karma stai karma Carmina 8 accendini ah Yahyo l'hai visto? l'hai visto quella che era bene l'academy? si è dentro da Elliot mi hai detto sei da che era la Lella si vabbè faceva schifo vabbè però ah mai quanto mi dà fastidio sto rumore del microfono guarda che ha fatto una roba? mi dà fastidio sto rumore eh porco due oh poi dici bestemmi qua c'è chi mancano? Marco e Valerio? e Stefano? Valerio sta al pro club però non entra come sempre in partì beh quello che è il suo solito vabbè avrà lasciato la play accesa per l'aggiornamento poi è entrato nel gioco e è andato a cena lo dico io ma c'è chi ha fatto i ragazzi ma no vabbè se ne fanno una intanto noi regà vai e manca robbis non ci senti vedrai tu ma te ne ho taggato su una cosa su facebook ma il go ha fatto i ragazzi ma no ma c'è chi tu ha e vabbè gioca 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 ma detto come è questo? allora mi metto as ecco la nuova mia ma che? ma che è no? portiere fermo hai visto Dani? ma 6.000 porco 2 ma hai visto Giordi Alba che freccia che è stata? quasi nostro ragazzo Giordi Alba Dani però se magari entri giocavo sennò io rientro fra 45 minuti che mi devo vedere una cosa ma fa un po' come da fare ma chi ti sei in culo ma fa un po' come vuoi dai mi stava a vedere un film porco 2 io pure pensavo bene il film con i miei che c'entra che film ma che voglite non era un film era la serie tv eh no no era un film no perché prima hai stato entrato ho detto a Danilo non ci sta non ha creato un party cioè ci sta ma fa gioca mi diceva e stavo ho spento il joystick il momento in cui stava a mettere si Diego poi si capitano per favore bella la storia è un bello tutto però scusa Iaio beh mo' è diventato molto intraprendente esatto ormai è molto coraggio ormai si non sono più un fringuello si certo vai annaggia annaggia diegania è più abbastanza ooo tobi grofono questo è Roberto Roberto oh capoglia eh me dà fastidio infatti ma cambiasse i cuffie che dici? eh si ti cancellà i cuffie dell'Apple vanno bene? o della Samsung? no dai così no 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 lo mutavo Dario lo mutavo dai? forza per forza per forza per forza a giusta a giusta le cuffie nessuno gli risponde no 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 scuso tu no l'ho mutato la cavia la cavia siete voi ti e danno continui a parlare c'ho quella roba con il microfono a destra che sto io a sinistra che dà già la roba a sinistra ma ho avuto problemi coofs con le coofs con le coofs non bagga del gioco ogni tanto lo fa pure a me che schifo che schifo che schifo non mi ha mai fatto Danilo a me mi ha fatto una volta a barra 2 stavamo a motore a motore al torneo non passa qua davanti stava portata a a latagna gli ha portato il caffè gli ha portato è roberto comunque prego e io l'ho mutato non lo so no no ho mutato pure una cosa stefano ieri che ieri avevamo un macello un effetto palla morbi la scavalcare la difesa supera pericolo no no già ho parlato o meno la realizzazione eh penso spero di si si ma e sarà qua ma dai si ma si io ho capito non ti preoccupare non ti fa problema ma guardi tranquillo ti fai spaccato ma te lo sai ma che è? te che ti hai piaciuto di cane che abbiamo pensato a tua copa mia da mamma sicuro no dopo pa vai cross adesso su dario no non aspettare è in trenare ormai non aspettare l'ultimo prova a far cross lo so non sta un po' dietro stava eh non mi pare è quella cosa che ha fatto te ha sbagliato quindi non lo sapevi ragazzi ho sempre quello che fa l'unico che fa che lo siete prima per dirci vabbè però è arrivato a un punto che ormai il cross è venuto di più fatto di entrenare eh infatti ho sbagliato lo so devo pompirlo non mi pare che lo sai perché sennò non lo facevi eh no 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 tutte le cose. Marco, di una bella bestemmia perché stiamo in live. Di una bella bestemmia perché stiamo in live. Calcola, la prima live che ho fatto sul torneo è iniziata con una bella bestemmia. Ti ricordi che tu stavi a fattargli? Prendi una bella bestemmia, guarda quest'altro. Mi madre mi stava apprezzato col panettone e stava apprezzato. Io non voglio il panettone, non voglio il tag dei piramidi, mi fa schifo. Ma perché non entra nel party? sta sempre così. Il suo marco di faccia. A mano la vuole nessuno il panettone! No, 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 scatelo. A chi? Mi padre, a mio fratello. No, 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 ha aperto solo per lei. Regalano palla agli avversari. Uncchi a meno gliel'ho chiamata. Appiazza palla. Posizione interessante. Eh, la dovevi passare in quel momento. Eh, so, l'esalugata. Eh, beh, l'esalugata. Eh, beh. Oh, mannaggia. Guardate, e poi faccio fare gola a tutti. Ci ho visto, non fai, gli fanno manco una partita pure da terzino. No, terzino non la faccio. Non lo so. Giocate? Subbito, subbito. No, prima ho fatto Amaci, ne ho fatto. Tascava a casa. Sì, ne ho vieno. Mi sono fatto dubire, mi sono fatto, regà, su. Ecco. E quella è la gioia. No, ne ho vieno, ne ho fatta una. Sì, va bene. Te sta bene, te sta bene, stronzo. Come hai fatto? Basta. Mamma mia. E già c'ho sonno. Ah, yeh. Siamo in live, eh? Allo girare il pallone molto bene. Turmino. Regà, c'è stato Damiano che sta scritto Nino. Non c'è più Tonino. Se sta caricato Nino, se sta caricato. Morto pure lui che stanno. Nel 2020 sono morti tutti. Che te pareva? Te pareva? Iaglio. Dai, Iaglio. Mega carcazzo. Inareo, inareo. Porca troiao. E poi non si sente più rumore, cazzo. Scusate, regà. No, che scuso, no. Non si sente più rumore, non si sente. Ma perché la fa così al centro? Si sente più rumore tu più? Eh no, perché c'è un telefono nuovo, mi se ruppe. Boh? Ha usato papà? Damiano sta chiedendo che stava a fagliaio. Eh... Stava con Amore 1. Sta a parlare con... Amore. Damiano, parlavo... Con le sue sette donne. No, con le mie amiche. Questa è proprio amica amica. No, no, è quella più... Obbligata. No, no, dopo tre anni me l'ho scopata questa. È zero a zero a zero! Devo fare nomi. Ragazzi... Sì, ho caga il cazzo questo telefono, lo dovuti qua. Oh Diego, quanto è ventura che avevo stato di accontello. Eccole, è tornato Roberto. Cioè io lo sento che... Un bel microfono nostro. Da voi che io l'ho mutato. Cioè, incredibile. sento dire il coso se ho sentito tipo di roberto sentì a io sentiamo il fischio rischio maschio col fischio no regano io non gli metto più la voce da me hanno scritto che sapere in live che che te ne scopi tutte è bellissimo grande da mia staglie lontano da mia staglie lontano da mia un amore 2 amore 3 stanno tutte in live si muovi al culo e sto a scopare volevo fare coming out più tardi lo devo fare adesso del colpa tua bella io ho tirato io stava andava in crociano non mettevi foto mai da mai su instagram buona volta che ha fatto vedere hai fatto vedere che lavori dentro un ufficio davvero hai dovuto fare due foto ha dovuto fa due effetti che andavano sette anni fa ma io non so boh ma marco che ha 30 anni e passa marco ma che c'entra è vecchio ma no che poi le foto non stavo facendo che poi non stavo facendo un cazzo nelle foto si si ha fatto una foto è quello oggi aspetta lettura perfetta e palla recuperata è whisky lo sa bene è whisky sono da whisky è il problema è in zona cross si lo sa bene Diego vedi youtube da moscio poi eh vedi youtube c'è sta damiano che sta a commentare è un problema eh beh dì che ti dice sono proprio queste le parate che nascondono più i siti e basta il minimo se infatti entra che ti aspetto ma dove l'hai messo il coso è questo youtube se infatti entra che ti aspetto l'ha messo il coso il coso è questo contrasto eccezionale no no è calenata è calenata è calenata è calenata porco due porco oh no senti voi che poi avete detto ti vede youtube no no ma noi no hai capito mi faceva la pratica a me eh 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 palla molto interessante eh se magari mi ha passato io segno regà eh eh il rifrazione blocca bene pratica bene pica bene pica bene fa sua la palla con intervento duro ma regolare ma arriva il gomo arriva è loro io non ho detto di chi non cominciare accetto con generico non ho detto di chi un'ottima serie di passaggi a metri a disposizione pronto casa da gnosci pronto cazzo vabbè va ci dovremmo fa un programma televisivo casa da gnosci eh pronto cazzo 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 Dario gioca a FIFA 12 ho fatto un grande bravo non so ci ha fatto ci stavo a far perdere la partita ci ha fatto fare gole no dicai pure tu sei a far perdere la tira che hai perso pallarla ma che cazzo dici è Dario che ha fatto il pallonetto e si è mangiato un god anche la volta ehi sa far perdere la partita io non c'è perché ti ho fatto sei grossi inuditi ma fa fincere bravo e quando conta conto quando conta conta Kinter oh bastardo cazzo spinta col corpo perché io non vedi che ho preso oh vedi io andavo a fare un altro RONARIO era se passava era proprio a good boy taglia Iacobo taglia Iacobo ma che sei da solo della mette in mezzo al botte io lo dici della no è Arbotta centrale pure Arbotta verbo verbo noo noo eh stavo passato non mi è riuscito ecco l'omogatto che la butta addosso ipotesi rimonta che sembra allontanarsi sempre di più per i padroni di casa per i padroni di casa pure al torneo ma dava male no regà ma data prima sta palla famo tre porte di go che famo adesso cioè tre go quindi esatto in questo caso si mazza che sveglia che ho tirato scusati dai 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 vabbè 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 noo questa era abbastanza buona il mio non c'è andato era buona Damiano ha detto coglione ma chi gli ha detto ma prima il sondaggio secondo voi il coglione di Damiano è che era riferito no perché alcune volte lui si chiama da solo capito già lo sa Diego vabbè chi era eeeh l'omogatto uh guarda 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 Wix si sono nato sape pure qua rimorchiamo cerca la porta sicuro vabbè abbiamo vinto due pia ma tira porco due tira come è qui perché che meno se riposizioniamo dai su ci sono come pure rimette in mezzo Valerio che non entra nel parte non sa perché ma che bello perché Velerio è Velerio perché io migliore in campo ecco ecco Velerio diegiane oh bello 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 mi piacciono tanto i segni di lei secondo me ha un valore bellissimo ancora flessiamo al gioco solo io però non ci trovo niente un pene un pene oh sei in diretta interessante perché interessante un picello pagato in due sarebbe da provare ecco il coso pizzo 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 bifurcudo comunque perché ci siamo in linea col mondo abbiamo minorenni che ci ascoltano si mi ci siedo sopra con i porcini bifurcuni mandate il link qua che io dove girare i nostri tibosi sta sul gruppo ora dove è gruppo questo questo qui facebook no no sotto youtube o meno meglio a me a me a me non mi dico Dario metti i ruoli intanto metti i ruoli mettite l'angoli e no se tu ti ho passato al capiamo che non ho mai detto di passare manca alcuna sinistra però l'inverso sta cercando di risolvere vabbè andiamo così con l'esterno bot no stanno botto no si trova molto diego a no marca meno far terzino non vuoi che mette a me daria a sinistra dove faccia crocche da solo vabbè che si fa una scaldatina però muovi dei palè dai e poi su sonno o a diego e dagli è calmo io sto calmissimo proprio somma e se calmo non puoi venire così vada gnoshia sommetti ruoli sì lo fissi belli gli aree gli aree gli aree gli aree stai calmo gli aree diventato ormai internazionale diegane sì sì ormai diegane perché bestemmi perché bestemmi valeri denise lei ha dato il team del internazionale esatto mi ha dato fino a milano con roberto poi all in vabbè no questo c'è mai l'interno sto famigliari stiamo ii e te oh marco io l'ho chiamato oggi vale ah è inferiore quando quando sei a magna per un periodo quando ancora non eravate fatto il 21 avevamo cambiate le magliette amo levere come hai cambiato le magliette avevamo cambiate le magliette ce l'avevamo come queste no però ho durato due settimane massimo non è che poi dal lino vede in cazzo poi dal lino non gli è più piaciuto e quindi ha rimesso sto tipo ma lei vedi mandare ai giri del gruppo lei è per caso pazzo altrimenti che fa questo vittoria ma 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 velcro ma ma potreste scusa che differente raccolte con 1 tiene se non vato Quando c'è articolo alto il pallone diciamo non si si site se interferenza quindi 2 ma la ritorno che torino ipaio per reggire riba mario fritto domani madri di mani a fare le assiste su scuola e' certo voglio sentire anch'io non lo puoi sentire ti manderanno i messaggi audio come un porto giudice formata ma sbragato l'anima non ho sbagliato o.a a percorso e' venuto all'interno Koshua no, siamo arrivati ecco che da inizio deriva cross che viene intercettato occhio al corner chi ha visto di riendere il salento la mette in mezzo interviene e sventa il pericolo vabbè che favo rega che favo Diego? allontana di Mugno il portiere sono all'interno a un altro ma io l'ho messo a posto Diego rega che devo fai io? un po' eterno io sono COC no ma COC e' venerio e vabbè questo e' un po' zitto e qui possiamo rivedere l'azione del gol e' una ripartenza da manuale e poi ah ma io c'ho Marco sulla faccia mia a concludere ugualmente a rete eh non era facile con le condizioni eh non male va ci sono metri a disposizione entra con decisione ma come fa a essere più veloce quello? ahia fai devi fare qualcosa a Marco questo m'ho appassato tutto tocco profondo a scavalcare la difesa attenzione pericolo murato dall'intervento oh 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 ma rega ma che'è la pagina? eh infatti a me non me l'apre comunque cosa? ma che pagina? ah quella di facebook? no quella che ha mannato eh ma immagino Valerio non me l'apre no non me l'apre manca a me che cazzo tu ti avviso dell'indirizzamento? la fiscia rega www.bizzarrobazzar vato dove a mangiare il panettone Iaglio? non ti ha fatto ma è stato il panettone non ti ha fatto ma è stato vero? o 2-3 prova eh che è strabologato nessuno porco 2 porco e ma se non li sento io la donna la elimino proprio dalla certa pronto? ma prima ci sentimo a parlare ma la mia che tu lo curi porca mignotta de gribbio madonna porco 2 o che dolore eh ho carcerato pure io porco 2 io pure ho cancellato su tutte e due si sente aaaaaah è stato male tutta la puntata sulla gente si taglia la pagare la roba i mortacci loro si siamo in live buonasera siamo in live buonasera ragazzi buonasera aaaaaah 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 2-3 prova aaaaaah andiamo avanti col programma aaaaaah 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 no vale marco manca no aaaah 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 ma che cazzo è sto piercing aaaah sto piercing aaaah aaaah ma non l'hai visto iaglio aaaah 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 lo sai come si chiama questo stadio? o è un perlomeno di... di chi è? dell'Atlanta colore del merda atlanta aaaaaah aaaaaah rovin chito una buona occasione pallo laterale poi pio occhio attraverlo attraverlo il pio la campurino mamma miaaaaaaa non lo so penso colpattula ma davvero questo e' incredibile vediamo per ma pronto? pronto siamo in linea? pronto casa da gnoshi? casa da gnoshi pronto e ecco dunque è arrivato il primo gol dell'incontro a una zeno buone recuperazioni possono ricominciare prova a giocare sulle fasce vola vola marchetto vola la curva si va in natura si sparò mentre a gola marchetto vola pregopro io marco c'è il terzino tranquillo infatti ha fatto 1 49 e 7 terzo posto con lui guarda che sta anticipato eccolo qua derovega eccolo qui derovega lille guarda che roba oh mandennato comunque la deriva mannaggia lagga caffè lagga il tuo sponsor nei sponsor vai marco un macchiato un caffè lagga eccolo lì è buono cameroon fatto so brutto questo costa barba diciamo barba vabbè vai sveglia no macchino buono si spegne di poco è anche difficile dire dopo si eravamo vista in tribuna che agli una buona nooo era partito laterale nooo era partito laterale perchè abituato di centrale è andato laterale beh la marco se troppo forse non sa diavara diavara ci si trova non rega male male me lo scatti nooo nooo non è tutto non è voglia diegane che avevo fatto no che c'è stato da te no ormai ne ho comunque su queste godenze bastardo di canale dai li faccio fare pure goals nooo guarda che l'ho preso per tutti è buono eh è una bella cosa eh non lucide eh è gol eh 1 1 1 per pianto frutta c'è cazzo c'è la rivessa con le mani può nascere qualcosa di interessante la squadra è di negri questa però tutti negri sono rega tutti negri sono rega tutti negri sono rega tutti negri sono rega stiamo live eh scusa rega abbiamo dette tutte a posto quindi battesia mentre ci mancava il razzismo anche tutte le bannevi da chico guarda ci manca solo chico rega rega vera addio la finita poi chico ti fa per noi è interessante la verticalizzazione qui è lì la dove fa come Diego col vigliarello si bravo esatto no ma ma almeno Diego ci ha provato esatto gol vabbè 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 goli sindy a faiaione per una volta a faiaione a live ma che c'è la l'account youtube per fare la cosa ma che youtube è quelle che l'account di google l'account di google l'account di google ma marco ma do cazzo stai ma di partercino ma io porco giuda che testa che sei io come quello di prima che testina di coca nooo un angolo scusaci oh oh ha rigore questo valerio gli hanno sparato a valerio eccolo sopra da banda gita nel centro c'era l'ha pronto c'è stato e cascato dopo che tutto l'ho fatto alligatore hai visto? pure prima porta vota mannaggia non dito le cose brutte che prima però ma sai che l'altro giorno io stavo iaio al bar e io sono entrato e mica l'ho riconosciuto ma puro per colare un cappello di spalle ho il cappello di spalle di che cazzo è questo? un tossico da che gira no? iaio sento va va a lei? ma sai te i mortecci? che finaccia vero? candiazza nooo avevo capito però non è che fa la scivola no così cerca la sovrapposizione dell'apertura ti è cross che viene intercettato ho votato iaio nooo ah ma qui c'hai i moschi a meno 37 gradi davvero? nooo ma c'è pure i zanzari tigre ancora i moschi d'osso hai fatto il cane a muskio eh poi ma ll buonissimo rossi mezzo mannaggia l'alto sei bastardo l'arbitro manda tutti degli sfogliatori per il momento l'unico che fatti mi hai di passo grazie vedrai che l'arma ti tornerà utile eccala eccala lo iettatore lo iettatore lo iettatore un po' immagini dei cani acconciato da iettatore si è il suo sono io? sono io? no no ci vedrai più chef con lo iettatore an��� ha ahahah ma che stiamo online ancora? si Goldy Church? hmmm fatto Gold Church? e' vero bè l'alto l'alto è passato è passato a aland eh si però questo è passato marco alande fermo un mese di solare scatto con tutti quello che ha fatto sta ancora poi no e siamo a dire per comprare fifa non questo no questo è proprio uno di quelli non l'ha toccata no l'ha ciccata la palla per un altro ha fatto come il god del gerviglio ma vabbè ormai il mondo sta a finire c'è la federico ha scherzo sul gruppo loro a newton che sta a menare dai il tuo eh no ma che controllo vai bravo ma vai vai figli sali diet sali diet vai 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 bravo bella tutti i gol ragazzo stacco a voi dove stanno bravi rega corrigio stavamo a casa del gioco bravo 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 ha capito ha perso i guardi è vero ma è più forte mai a florenzio bravo mi madre non mi risponde pure a mi madre ma che è successo no 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 cosa no era per marco era era per marco era per marco ma non mi pare a colpa del giocatore mio ok che lo controlla chi ed è buono giocatore mio ma guarda quando spengo la facendo di madre la mattina e beh che cazzo non avevo credo che io continuo a rartarla eh ve lo fate a sovrapposiziavo lo sapevo negro maledetto eeeh è sempre in live mannaggia buba mi senti? oh ti sentimo ok mamma mia gg non so capire c'è vedi questo c'è sono uguali non so che fanno sentito a tutti non provo troppo scatto beh valeva a fare per amici dai parla di dario perchè io c'è vero non riesco niente buono che non avevo io vedo vedo lo schermo piccolo ci sono tanti che hanno cose che non vado e' appunto che lo sentivo la chiamo e cosa ne aveva abbiamo premuto quadrato però eh ho capito l'altro ma mi rispondi sempre per questa giustificazione eh perchè te lo l'ho fatto io lo trovo giocando oh iai amo ma che cos'è boh raga io premo triangolo perso quello che voglio se lui la passa un altro non è colpa mia nooo è il secondo sempre davanti era per dario non hai capito vabbè 8 passaggi ok brutto passaggio mi senti solo a te mi sento in tutti oh perchè ho fatto il giro del mio paese per delle cuffie cosa è arrivata a piegare cuffie prova a riavviare modem bravo iai ho fatto un'opera eh io non ne vuoi da me ho era comunque troppa cacera eh bravo mamma mia no vabbè adesso cacera così dopo 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 la cacera ti fa comunque che quanti cazzo siamo però gli avevo presa l'ho tolta la live da nì? no non l'ho tolta prova dai quadratini quelli rossi eh però non è dovuta la connessione è al gioco ehi no non ci credo vabbè Danilo quando decide di segnare diventerà il giocatore più forte del mondo io a scatti vabbè non mi fa la fa più tardi quando io dico da fa no non ci credo dai ma domani nelle sì poi domani nelle per te lo voglio bene occhi al pallone se mi sono risultato nooo in segreto dai ma vabbè è giusto così però poi ci va di quello che vanno tu che hanno fatto un sacco di diri nooo in segno fa salmina in segno da lì scopo cacce un 6 8 9 9 9 9 9 9 8 9 ma dove sta Dario? è dietro sto perché se no ripartono no eh lo so dai ma te insegnare fai insegnare Danilo ma la messa in mezzo ecco ti accetta una palla davvero molto pericolosa non sai che una combina non sai che una combina non è questo mortacci ostri ma che ho fatto? eh ahci ma ho fatto da sui ci sono ancora 120 secondi da giocare ci sono fatto del sueto eh l'ho data sotto me la dà da Diego ah lo vedi che non so solo io eh sì sì ok wow che partita che ho perso che ora mani o problema Stefano allora Stefano ha detto che adesso si collega eh perché ora però c'è un piccolo c'è un piccolo problema c'è anche lui il problema il mio stesso problema che è quello delle cuffie diciamo rega che è va bene perché toccarizia non sa dormi dai 5 minuti svegliatemi 5 minuti dormo ci siamo ci siamo ma io gli ho risponde te a chi? a loro io io dove stanno spero non ci sono scritto su disco ah no hanno scritto privatamente è vero è vero un caccia a tegaglio risponde solo a chi vuole lui oh guarda ti cani quanto è venuto a coltello eh quindi la prima cosa c'è la prima tutto tutto chris benoit quanto cazzo era grosso chris benoit? se non c'è sta stefano io ti metti i cdc no lo so perché non c'è sta stefano? c'è un problema il microfono pure lui ah madonna senza microfono è tosta però eh vabbè però mi aiuta niente ho detto che che provava avere altre cuffie così si funzionava a stefano basta qualsiasi altra cuffia c'è il tempo fino ai 10 hai detto ruba si si guarda io prima di queste non ho provato tipo cinquantamilato a nessuna che andava fuori di un ragazzo che vai rega tanto mettiamo se in campo mettiamo un conto che stefano non gioca finché non sei passentime mettiamo se già col cambiamento io cdc regge una la voglia con valerio io devo stare a destra o a sinistra ah ok aspetta mi sta chiamandogli un po' cosa mi dice dica eh dimmi 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 sento guarda giaglio ecco qual è eh sì eh sì eh sì eh sì eh sì la play mi salta la corrente quindi non hai fatto l'aggiornamento eh no se la di senza aggiornamento non puoi usare internet è proprio così vabbè gli avviso io dai mi dico mi dico che vabbè mi dico che vabbè mi dico che vabbè non è f*** che sta succedendo questa cosa non penso che è forte dai dai sì sì dai adesso gli avviso io che non lo so amore va bene eh lo so vabbè e faremo in qualche modo dai gli avviso adesso ciao ciao eh non lo so amore non c'è sta quindi ci sono delle news cioè ci sono delle news ci sono ci sta ci sono delle novità allora allora steve ha detto che non c'è per un semplice motivo che allora 20 minuti fa c'è pratica quando sono andato io da lui è saltata la corrente e tanto pare non aveva neanche fatto aggiornamento comunque quindi non c'è va bene dai non fa niente sì sì ti dispiace Marco Stefano ti esegui la live così ah sì quello sì osserva i cdc come come giocano osserva come non dovrebbe giocare no non è vero non è vero no è vero è vero basta che non guarda il c.o.s e scus no cds vabbè regami diciamo subito oh ditemi quando chiudo un attimo l'occhio vada che chiudi l'occhio che poi chiudi per sempre dai giaco madonna dario che gli ha detto ha detto ha detto non chiederò poi chiudi per sempre bella grattata con mille piumoni sopra cittadini dai cuscini i cuscini tutta la gamba la gamba palandata mi raccomando il piedino fasciato è molto più mannaggia ok perfetto bravo dai ci ricapitolando giochiamo con cdc in meno no con tettino di meno persino meno ma che bello bravo io io nanananananananananananananan che fallo? e merendini in quantità eheh abbiamo anche il tifo di ste perfetto e fa siamo pronti? si 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 dai rega dammi un minuto no un minuto no ma è divertente a tavolino comunque dovrebbe le cuffie dentro il sacchettino? no non lo so non lo so non ti piace a stacchettino no 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 eheh povero perfetto lì c'era erano nere grazie a te Britney Spears per 29 anni ma no no come hai tirato Pianata? a cuore con una festa perché per covid perché è famiglia Britney Spears 39 britney spears britney sperma non so che tipo vadano bene però quello che dentro la play erano tutti neri qualcuno che scrive sul gruppo che stanno a cominciare per un singolo con una sola cuffietta una sola e un pianta che l'ho visto adesso mi ricordo quanto ma tempo fa e la diretti di mezzo cose bianco lì e magari lì da qualche parte si 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 inizia a nilo siamo live o no si grande me la rischio se siete pronti siamo pronti a ricominciare tutto il mondo delle altre varie marco ho sentito un accendino e un ai a bene di gaccia indio bevi vado o dimmi o bim ma non ti ha perso lo giudo ai due di aver botte che ha ritardato e ma che bambini avanti marco di assaltata quelli che senti non ho lì tu di guardare la diversità io e te è tenato una chat erotica sì vero certo mi faccio ci ha deciso partecipato a puliva mi sento i miei paroli amma mia che destro è in partita da ieri riusciano ma ieri coordinati garmino portiamo alla bia che si abbracciano chi è marco e la riume dal filo doveva legge non c'è stanno e dai bella così ragazzi che entro primo minuto come era dentro i primi cinque minuti ho proprio giocato bene ragazzi marco hai fatto una bella cosa hai visto che gesto hai visto che la tua sovrapposizione penso che è stata fondamentale una bella sta ma non importa io dovessi dire che parata fatti poi decidevano di giurano che fa che azione tu ha parato e mi ha segnato non siamo d'accordo su questa cosa bravo marco così armanuk io credo che non è freddo io credo che non è freddo che scaddo io c'è freddissimo armaduk armaduk c'è è l'adrenalina e si sente si sente valita il rischio aolio marco o anche a me marco mandare no vergognosi e se sabotaggio puro sabotaggio dai dobbiamo spingere ha già quasi finito non è più disponibile vabbè vabbè ci hanno tutti i link come marco se c'è una propria connessione problema loro che spedere unici 10 in italia che c'è l'inca qui di jene ma almeno lui e infatti la scelta pallotta bravo un bel coiore per vedere chi vuoi abbracciato al modem ha fatto in selfie portalo a mandalo a essere un store schifo schifo a marco ma di ricordi a trasferta da benevento cugino che trasferta a rega voi ci avete presente dove vedi uno trasferta da benevento l'amico il cui giro di denise di guarda viene uno al posto mio andiamo due settimana che apprende affrosinone a rega questo è un bocca a macchina con occhio di vetro no cioè voi potete capire fascistissimo è tipo un fascista con due destra e poi ferma la torino e mi devo bere 10 birre che cazzo ti fai solo perché di destra se la di sinistra beva solamente 10 te esatto no 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 si gioca eh una gampo al vero eh vabbè ma è colpa loro eh ma dove abitate? in gurund? in gurund? in gurund? i item? si ci stanno poi i campionati da 11 contro 11 cazzo vuoi te ne mancano un paio? che boh eravamo partiti meglio prima ovunque eh ma Marco che lo avrò io eh eh giorgio vedi d'arte si è cagato sotto qua diella eh 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 non c'aveva paura no ah rega c'è anche il concerto dentro casa? eh Velerio oh spegnista tv e gioca qua tv spinta porco 2 aspetta eh con iniziazione no no è sto io ti trovale eh ormai va ripresa va meglio ma so tutti loro rega si sanno qualsiasi me so no no sono tutti i toni eh si perché c'è qualsiasi capisce tutto il difensore ultimo intervento no buono bravo il difensore che legge bene il suo pallone ma ah paraglia metri buono da favo instrumental ma buono su si è fermato chi si è fermato buono buono bella palladi eh quando la trattenuta in araya va bene ingamone lì qua fi yo e che la giù e tira buona madonna come ha tirato brutto no bravo bravo e non mi aspettavo che mavasami porco 2 beh tu vuole tanto sto io dietro occhio alla valsata quella è buono c'è un testo appeso da milo orco 2 buongiorno al suo sentito bravissimo ahhh, tardi fuori ragazzi questi si dobbiamo aggredire si 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 possiamo aggredire si 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 possono aggredire bravo mamma mia c'era arrivato perché ti sei firmato famose miliardi di passaggi no no toccan a pieghe centrale adesso che non sapevo che cazzo sto diciamato scarico decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a reso bravo di troia va bene madonna sembrava scusa che ho visto che poi tutto addosso ho detto vado da solo ha fatto bene ha fatto bene come sto fuori no non stai guarda era non era perché però solo tanto quello che dobbiamo pianto bravo 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 marco quanto cazzo ha dato si è accettato coraggiosamente scivolata per recuperare il pallone non esagerò ma che cazzo è barbide colore comunque non è giusto che siamo in 55 tutti in barriera si è bello che manco te fa uscita no si vede che hanno premuto le 1 e le 1 ha visto che c'è il tempo per decidi giù giù no 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 si aveva fatto quadrato io ho fatto la scivolata lì voi ma chi dici dai 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 oh questi casi ho provato due libi manco rossolano centrale ma è largo è largo è largo no largo era buona davvero era buona fuori gioco no davvero porco due mamma mia mamma mia come può essere fuori gioco buona buona quindi questo torrico ok non sondern morire il dice o è che che perché non per su avrea che v ti De Rossi Via Parano Un minuto il rischio indicato dal tabellone del quarto uomo dico cercare il cross No, io dò Oh! Devo scenario Piero Ci affancazzo regà Abbiamo fatto un cazzo No, però regà Stiamo a girar palla troppo lenti eh andiamo a giocare più semplice, dove c'è questo spazio toccarà il pallone vabbè dai 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 si fa si fa ma qua si gioca con la paura beh azzardamo poco oh dai eh ecco il calcio di inizio secondo te Marco fanno girare benissimo il pallone e' il culo che è rimasta all'au eh ma aspetta ma un po' sopra la noo l'au lo quasi fa scorrere perdono palla attenzione però è interessante ma è stata solo però meglio un po' una svegliata va in controlla via con questo raggio con quattro schierati eh avanza pallarpiere sfilata o crossare dai 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 su scende di riprese in una vita è stato bravissimo avrebbe merito pure volo una qui carai o di avare vero questi dopo i laterali tutti al centro stanno si pensa lui a spazzare via sempre schierati so no di quello che amato è la tava data perché purtroppo secondo dai 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 questi stanno sempre in quattro tutti dietro si stanno così dietro dai che chi lo fa la presa brava la maletta che pubblica è fatto che la gattina strappata l'avanzata a farlo a fallo e prova a cambiare gioco bravo che ha fatto questo pure prima no vero si chiamata oscar ha lasciato tutti o tutti da criticare a giocare d ok ma continuo bravo no se io puro me prego un cazzo se lo so non ho preso Oh, me sta a crossare poco de merda Ma non si sa perchè Crossa sempre uguale Ma che culo Uno deve far fallo e restano in piedi Una madonna Sfruttando al dovere questo filo dalla bandierina Corner battito a bordo Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio Possono ripartire in contropiere Sì 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 Occhio al pallone filtrante Si allanci giocano Ho capito rega preda Al secondo tempo che non ripartimo Mai Oh, calma, calma Tifosi Che non smettono di incitare la loro squadra Complimenti Manca poco al termine della gara In questi ultimi minuti che possono regalarci sorprese Oh, c'è sto Poggiate Eh, ho sbagliato Di messaggi elementari Dai, ho sbagliato Dai, ho sbagliato Stai davanti a te tutti quanti Che stanno Via Possibilità di controviene Attenzione No, è morto Dai, dai, dai Dai, dai Eh, dai, dai Non è passata in pallone Porco addio Niente Sì Niente Porco addio Ma una pallam verticale al centro Mai Così in vincevano Cioè, almeno prima ci arrivavamo un porta e mi mangiavo io Ma adesso manco quello Scambiano bene il pallone Palla interessante per scavalcare la difesa Ma è giusto Ma è giusto Ma è giusto Occhio al ribalzo Sì Oh, lui Occhio 2 Click No, manderlo No, dai, dai, dai No, dai, dai, dai Tu Possesso di palla Runei Un altro ottimo tocco Deve se bloccano per più in croce Pallone che torna gli avversari Arretta Due porco Che schifo, raga Abbiamo fatto un tiro in porta Nada I passaggi di fila ne avevamo fatti Cioè, manco un tiro in porta abbiamo fatto Guarda la prima coppia, no? Porco Dio L'hai fatta te la foto io? Sì Grande Che me la mandi? Si chiamata la manda Vedi che l'ha fatta lui, capito? Cotto 1 a 0 Cioè, regale, a sta partita rendetemi un po' più partecipe, vengo contro, gioca con voi No, è toccato un po' più Cotto No, che non ci hanno dopo chiuso Non riusciamo a fan cazzo No, sicuramente Dero 4 fissi Sicuramente Sicuramente Non mi sono liberato tante volte No, no No, no Erano 4 fissi lì C'erano state C'erano state C'erano state forte che comunque potevo Potevo liberarmi Purtroppo Non è un segno Non è un segno Non è un segno Se giochi contro i bot è una cosa Ma se giochi contro 4 che ci giocano fissi è un'altra è un altro proprio sanno la punto cerca non ho visto come come a me nemmeno una palla a diego per mandarlo sull'uno contro uno no ha avuto l'interno ma arrivato da mangiare no ricorda immobile vabbè su cioè eravamo partiti che stavamo fa qualcosa del buono e da lì io pensavo io pensavo ciecamente che la vincevamo poi il tracollo raga è mancata sempre la palla in verticale è mancata sempre del lato perché eri sempre fisso 3 e te ce n'hai i tre fissi e vabbè ma deve fare sportellate però approvamole almeno se crei negli spazi e giocando pallati per me ci sta a guarda vinceremo sveglia un sacco i passaggi semplici si ho sbagliato un sacco di popolo d'appoggi dovevo le stronzate io pure comunque quei palloni compreso me so cagato un mano ma bello ma sono sempre i stessi si si dai si può fare tocca sorprenderli cambiamo giocata però i grossi ormai si si può fare tocca cambia gioco siamo stati sempre lenti comunque noi e eravamo molto più lenti poi all'ultimo si fanno piatta la frenesia all'inizio quando è un momento di fa giocata una famo che c'avemo nei corde raga fanno queste cose un po più di possesso però con questi miei partiti o gli riparti ma se io vai schierati il problema è che siamo a possesso no ma il problema stavo a fare le ripartenze pure da sicuro si che ripartiamo male sbagliamo il passaggio proprio iniziale da ripartenza le posizioni su rega mi pare che mi pare che non giocavo di solito così è moda però e divertimo se dai abbandonati vabbè il covid raga la potremmo portare a casa questa la dovemmo portare a casa la dobbiamo portare a casa è diverso diego ecco ecco mi fa cambiare la telecamera manca a me ma fa cambiare la telecamera a sudamerica bravo manca a me dalla promozione ora sta a loro mantenersi sugli stessi livelli nelle giornate che manca grabo grabo va a cambiare la telecamera a te io adesso no ma raga io non mi vedo vabbè va a cambiare la telecamera a sudamerica guardate abbetri per avanzare che buon dinti vedi te ma che ci sono fondamentale per noi non mi fa cambiare la telecamera per me dai io io non la cambio mai tanto ma della mcdc è fondamentale cambiare la rimette dentro di testa la spazza via 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 bene la spazza via la spazza via la spazza via la spazza via bravo ma bravo ma guarda come mi ha allevato tanto ve frego tanto ve fregamo tanto ve fregamo dai su rega abbiamo fatto come prima ce la famo a mantenere così tutta la partita e vado giù ma come se cambiate le camera col tasto centrale dai guarda il botto dai guarda il botto però dai 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 fai una finta no no rega però così no che cazzo rega loro sono puliti hai visto proprio puliti vanno e ecco dunque è arrivato il primo gol dell'incontro 1 a 6 2 porco vai ha spazio per avanzare ah pericolosa bravo bravo fanno sempre fanno sempre piazzatilo che finisce in pallo laterale recupera palla e far ripartire i suoi rimanete i cdc rimanete era salito Marco non ci vedo loro non ci vedo loro è una buona è una buona va bene va bene è difficile vedi bravo via vai bravo orca troia stavo linea stavo andate che si si fanno il lascio e vai subito sul secondo teo bravo la traiettoria verso il centro il crofi è intercettato dal portiere buona qui la lettura del difensore maria buona come ti metto io qua con te li vedo non si mezzo aspetta il pericolo è all'ottana bravo allora entrate è attirata alle sinistra o domate alla sinistra dio porco per poco facce la secco il bocchiere ma qui ma dove cazzo l'ha data questo è matto bravo io no me lo firmato perché ho visto che ci stava in attina bravo 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 preparato su questo pallone e' sce mai la palla c'è spazio per andare alla spazzata via ah scusa ma è pallaccia vale che ti ho dato eh vedi poi ricominciamo a non ripartire guarda questi come giocano può crossare da lì si ma beh un tocco interessante tiro curato occhio che guadagnametri cerca il cross profondo palla che esce sarà corner pallone in mezzo azione sfuma mamma mia che ha fatto il retropassaggio questo eh vabbè oh l'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero c'è manco ma manco uno o due ci vanno un po' pa' nel secondo no di qualità per intercentare il pallone venga hanno fatto solo quello di partenza lancio passaggio con le demozioni divise come dimostrarti perché stanno sempre là venga appena riuscimo a fantire go poi abbiamo il via poi abbiamo il via c'è avete visto Iaio come tentava l'imbucata al limite sì sì cioè da lì do muo di partire c'è il segnale dell'arbitro comincia il secondo tempo vede vede vale manovrano elegantemente con questa serie di passaggi oh no ci pensa lui mamma mia che ti ha reinventato ma io lo so subito perché non lo tassi uno d'avrò no 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 bravo possibilità per la ripartenza bravo Marco guarda che s***a no no 44 dai 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 fino all'ultimo si sono giocati a ripartenza questi questi non stanno a fare eh si catenage come la Lazio gioca oh e porco dio bene qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla tutto fermo è upside che cazzo che cazzo è stato costretto è stato costretto è stato costretto eh ma? ti ha giustella? ah penso che vince lei? regala qui il pallone tentativo di chiusura comincia dietro cazzo che prega bravo ah scusa eh però orco 2 no partate che glielo no eh no si aprila camadosca l'ho presa quasi manco un altro bravo andavo preso dai andamoli a prendere andamoli a prendere e fa subito scusate ragazzi no tranquillo però ci abbiamo provato adesso dai si 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 non lo scoperto non lo scoperto non lo scoperto non lo scoperto coraggio marco c'è un'altra e ragazzi ragazzi ronade posizione ideale buono bravi si ripartirà con un fallo laterale si ripartirà con un fallo laterale e stanno come fanno però come fanno stanno su priorità numerica adesso cioè perché non sanno più toccava rientrare però c'è c'è il difensore che li viene in gioco il difensore nostro qua tiè l'ha tenuto in gioco quello si è spostato da là cioè boh e questo è un gol nato c'è l'ha fatto l'ha fatto diventare su una numerica a tre cioè se te non perdeva quel pallone un coglione bravo a trovare la via del gol semplice veloce letale pallone riconquistano gli avversari De Rossi De Rossi mamma che scherzo ottimo intervento senza fronzoli eh che piede scusate nooo non lo so che m'ha fatto si guarda il bot eh QLSS serve si a me QLSS sembra proprio pure la gente che gioca gara che sta per finire e a quanto pare c'è una distanza insormontabile la differenza tra le forze in campo oggi sembra evidente sembra quasi di assistere a una partita tra squadre di categorie diverse è vero è evidente la differenza Pierluigi bravo qui il difensore che legge bene questo pallone non so se c'è stato la difesa se lo stanno con la difesa 3 e loro no però so fissi il bot non si alza, lo vedi, sono tutti in linea si, 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 guarda come stanno 4 punti a campo a disposizione prossimità il pallone viene con taglione bravo Dani Borrielli si guarda è nostra palla allontanata dal portiere occhio al contrapiere qui ahi non ci credo non ci credo siamo ormai negli ultimi minuti difficile che possano esserci sorpresi è in buona posizione cerca la sovrapposizione attento qui il difensore che allontana intercetta il lancio sul basso vabbè guarda è che minimo è questo nooo ha spazio per andare intercetta bene il passaggio e non era facile ancora 2 minuti da giocare De Rossi interviene in recupera qui nel settore centrale guarda guardate Amados guarda che culo sempre la loro sempre la loro ma senza esitazioni ha mostrato il cartellino giallo molto vicino al rosso c'è insegnare non 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 equilibrata no insomma si no 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 guardate va a vedere statistiche si si rega però questi erano impenetrabili costa difesa no c'era una difesa fissi come fai non toccava invece due punte qua toccava cambia formazione si però se con due punte è un po' meglio secondo me con la difesa del genere che c'era solo Danilo come cazzo poi c'era da solo e poi due tiri c'erano parei da regalare la porta sulla linea poi andateva a rivedere la live la 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 la